Nel video di oggi mostreremo come ingrandire la dimensione dei testi e le applicazioni sul telefono. Per questo dobbiamo andare su Impostazioni, Schermo e Luminosità e li troveremo tre opzioni che ci saranno utili. Il primo è la dimensione del testo, che possiamo espandere o ridurre spostando il cerchio del fondo. Il secondo è testo in grassetto, che se lo attiviamo evidenzieremo le lettere in nero. L'ultimo è la visualizzazione, in cui abbiamo due opzioni, con zoom che sarebbe il grande e lo standard che sarebbe quello normale. Scivolando a destra vediamo un esempio di come ognuno di loro apparirebbe. Per cambiarlo, dobbiamo solo selezionare quello che vogliamo e premere Imposti in alto a destra. Quando si seleziona uno d'essi, il telefono diventa nero per alcuni secondi e viene attivata la nuova configurazione. Se ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici e iscriviti al nostro canale. Grazie. 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 Grazie.